Realizzare una pista ciclabile che partendo dai tratti già esistenti crei un percorso unico dal centro urbano al mare. E' quanto chiesto dall'Aggiunta Municipale di Ponte Cagnano-Faiano al responsabile del settore lavori pubblici, chiamato a mettere in piedi un progetto che dal tratto di via Pertini si riallaccia alla pista ciclabile esistente sulla fascia costiera in modo da creare un tracciato senza soluzione di continuità. Lo step successivo sarà quello di inserirlo nel piano delle opere pubbliche e di individuare le relative fonti di finanziamento. Il tutto senza dimenticare la questione della riqualificazione del percorso ciclabile che corre parallelo alla SP 175 Litorania, di competenza provinciale e finita più volte nel mirino per via dei problemi legati alla sicurezza e al parcheggio selvaggio.